Un tour informale del mio desktop fisso Linux Mint, con i programmi che utilizzo, la mia organizzazione dei dati e le mie personalizzazioni. Ciao da Dario di Alternativa Linux. Mi è stato chiesto più volte, sia per motivi delle mie personalizzazioni, sia anche per conoscere i programmi software e gli applicativi di uso più frequente, di fare un tour del mio desktop Linux Mint. Oggi voglio farti vedere come sono organizzato nel mio computer fisso. Ed ecco il mio desktop Linux Mint come oggi. È soggetto a molte variazioni perché a livello di personalizzazione lo cambio in continuazione. La prima cosa da notare è che mi piace comunque tenere, nonostante le impostazioni da Mint 21 in poi, l'icona computer è quella home sul desktop, in cui ho poi il collegamento ad un hard disk differente da quello del sistema. Quello del sistema è un SSD M2 da 1TB che tengo in formato ext4, mentre ho un disco supplementare da sempre, fin dai tempi di organizzazione in ambito Windows, separato, in formato NTFS dove tengo praticamente tutto. Tutto quello che ho, documenti, foto, libri, collezioni di musica, tutto il software, i progetti web. A questo si aggiunge anche un hard disk da 6TB dove tengo il backup di tutti i miei Blu-ray, ma anche altro, tutti ben organizzati. Lo monto solo all'occorrenza, mentre per ciò che riguarda il disco supplementare da 3TB quello lo monto in automatico all'avvio della sessione. È un disco NTFS perché principalmente le mie modalità per effettuare un backup in non passport da 4TB esterno ricorrono ancora a GRSync. Io non ho un backup automatizzato. Io quando lavoro in qualche cartella particolare manualmente effetto il backup delle singole cartelle in cui ho lavorato. La ragione per cui mantengo il disco dati in formato NTFS è che ho piacere di mantenere anche il backup esterno in formato NTFS. Non uso Windows, però sapere che i dati siano comunque accessibili da qualunque computer senza alcuna particolare esigenza per me è ancora una sorta di valore. Il modo migliore che ho per mostrare i programmi più utilizzati di frequente è sicuramente quello di entrare nella cartella software, ho un preferito, andare su Linux dove ho uno script per la reinstallazione, uno script bash che mi imposta il formato di trasporto e mi aggiunge tra le fonti fidate il PPA di Brave Browser, un altro che mi imposta il PPA di WS Codium, poi avviene l'update e poi l'installazione di tutti i programmi con un unico comando, tra cui ho Amul, Audacious per la musica, Audacity, Brave Browser, Codium, l'editor di Conf, Deluge per i torrent, EasyTag per i tag della musica, FileZilla, Flameshot, Ipraglin, Freyor, Gimp e il suo manuale, Gparted, GPIC, GRSync, un tema ad alta definizione per il grab di Linux Mint, poi Handbrake per le conversioni, il programma di gestione grafica delle stampanti HP o solo stampanti HP, MediaInfo GUI che mi serve ad ottenere informazioni nel menu contestuale sulla durata e il formato dei video e poi le estensioni di Nemo per la conversione di immagini, per la gestione di font e di dettagli audio, poi l'immancabile PDF Arranger, Sigil per la creazione dei miei e-book, il convertitore di formati audio, Stacer per la pulizia, lo adopero veramente sporadicamente, i font, beh questo in effetti non lo faccio più perché li installo manualmente, i font senza ricorrere al software di Microsoft, VLC e infine Xornal. Ci sono alcuni flat pack perché ad esempio in questo momento io ho BS Studio con cui sto registrando il video, lo installo in formato flat pack perché è ben più recente di quello che si trova nei repository. E poi un altro programma che per me è diventato di uso quotidiano quasi è SpeechNote dell'amico Michael Corcesa, è un programma di cui ho anche fatto una recensione, è un programma favoloso, è appena uscita una nuova versione con un sacco di funzioni in più, quindi grande applauso a M.Kiol come si chiama in rete. E un'altra delle cose che faccio, sì in effetti in questo momento io ho installato anche LibreWolf come alternativa a Firefox e incorporo una rimozione di font non necessari che è disponibile anche nel mio video e nell'articolo blog sulla post installazione di Linux Mint, si tratta di tutti i tipi di caratteri asiatici che non userò mai, seguiti dalla riconfigurazione della cache dei font. E questo è lo script con cui io una volta formattata e reinstallato Linux, Mint o Cinnamon oppure LMDE lancio, ho un lanciatore desktop all'interno, CTRL T, apro una nuova scheda all'interno della mia home. A fine installazione e dopo aver applicato eventuali aggiornamenti dei programmi disponibili, io lancio con un doppio clic questo script e reinstallo tutti i programmi che mi servono. Poi in effetti ho un altro piccolo script che mi pesca da varie cartelle per lo più nascoste all'interno della home, singole file e cartelle che mi interessano a livello di impostazioni. Ricreo all'interno della home una cartella Dario Ripristino e al suo interno ricreo la struttura della cartella home stessa. In poche parole questo mi serve a salvare prima della formattazione tutte le impostazioni solo dei programmi che mi servono. Quindi le impostazioni di tutte le icone del pannello, le impostazioni dell'applet Radio Plus Plus, quindi tutte le stazioni preferite, le impostazioni del menu di SINNAMENU che è quello che sto adoperando in questo momento, le impostazioni delle azioni di Nemo che così riesco a ritrovarle di volta in volta, copio i fonts che ho installato manualmente all'interno della mia cartella home local share fonts, i file temporanei e le impostazioni di Amul, i dizionari di Brave, le impostazioni di Audacious, di Deluge, tutte le connessioni ai siti web dei miei clienti all'interno del file di Filezilla, le impostazioni del pannello di tutta la navigazione di Gimp, tutte le impostazioni dell'editor video KDL Live, le sessioni di GR Sync, il dizionario di LibreOffice, i cataloghi supplementari che ho creato all'interno del programma Pix e poi le impostazioni dei dizionari e tutte le varie impostazioni di Sigil che è il programma con cui realizzo i miei ebook, infine i canali e i provider di Hypnotics, queste non le uso più perché un tempo adoperavo Tuner in formato Flatpack come applicazione per le radio internet, quindi praticamente cosa succede? Quando sto per formattare io clicco Ripristino Mint, doppio clic, all'interno della home mi ritrovo la cartella Dario Ripristino, nascosta, attivo con CTRL H i file nascosti, le configurazioni che voglio mantenere. A questo punto io solitamente provvedo a fare un backup con strumento di backup, prima di formattare, creo un backup, di solito lo creo ovviamente nel disco esterno, per poi comunque riportarlo dopo gli aggiornamenti e le installazioni dei nuovi programmi che ho fatto con il primo script, lo reimporto nella home, rispostando all'interno di home queste singole configurazioni, per cui ecco perché dico talvolta io riesco a formattare e riconfigurare il computer in un quarto d'ora. Tra le altre cose ho in home, nella cartella CTRL H, nella cartella where, ho anche uno script reimposta preferenze, che praticamente è un insieme di impostazioni di Dconf, script preferenze, sono tutte le impostazioni di Nemo e del desktop Cinnamon, lo screensaver disattivato, il formato predefinito della data, i menu contestuali, insomma tutte le impostazioni, tutte le preferenze di Nemo che imposto da riga di comando in un istante. E poi, quindi per l'appunto, i programmi che uso, possiamo fare di nuovo, dopo aver visto lo script, una rapida panoramica delle categorie del menu. Come ho detto SpeechNote, ho fatto un apposito video su questo programma di trascrizione vocale e traduzione che funziona tutto online, Staser, che so che è un progetto abbandonato, ma alla fine automatizza una serie di comandi da riga di comando che trovo ancora molto utile per la pulizia, perché comunque i percorsi delle cache, dei programmi, dei file temporanei sono sempre lì, per cui ancora lo trovo utile. Sempre su accessori, Xornal, programma che mi serve però a puntare. Qualche volta io aggiungo la mia firma scannerizzata ad alcuni pdf senza dover stampare e di scannerizzare. Su audio video, come ho detto, io adopero Audacious perché è l'unico programma che non richiede di creare una playlist ed un database dei miei, vediamo quanti, gigabyte di musica FLAC, in cui ci sono tutti i miei cd e anche in questo caso altro. Mi sembra di avere circa 700-800 gigabyte solo di musica e Audacious si presta a non creare un database di tutta la mia musica, ma semplicemente a sfogliare una cartella, aggiungerla. O mi sono fatto un'azione apposita per poterlo aprire con Audacious o in alcune cartelle per poter aggiungere la musica a coda cartella in Audacious. Mi sono fatto un'azione personalizzata. Questo è evidentemente un album scaricato. Ebbene, vediamo 681 gigabyte di musica FLAC, praticamente. Sono tutti FLAC, tutti. Formato cd, posso ricreare il cd. Molto spesso ho scannerizzato anche, anzi, sempre le copertine. Ho inserito tutti i tag. Ritorniamo nell'esplorazione del mio menu programmi. Audacious per ascoltare la musica. Audacity, immancabile per le mie registrazioni audio-video. Cheese non so perché ce l'ho messo, lo adopero sporadicamente, semplicemente per testare le funzionalità di una webcam. EasyTag è molto comodo, è molto comodo perché non appena io, si può dire, scarico o trasformo in cd qualcosa di nuovo. Prendiamo caro Emerald. Io apro con EasyTag e sono in grado di applicare, praticamente era mp3 tag si chiamava, come si chiamava il programma che adoperava in Windows. Sono in grado di impostare tutti i tag per la lettura, assegnare le immagini e quindi è un programma che trovo anche... Mi sono abituato prima a questo che ha l'ottimo ex falso, che comunque permette di compiere le stesse operazioni. Handbrake, perché lo trovo insostituibile per le conversioni audio-video. Per ciò che riguarda l'editor video, KDL Live per me è una sicurezza di tanto in tanto. Verifico anche le novità di Shotcut, però oramai sono davvero molto molto efficiente con KDL Live. Per poter sfruttare una versione nuova senza mescolare librerie cutie tipiche dell'ambiente plasma e di tutte le applicazioni KDE, potrei usare Flatpak. Però io ho incontrato con le versioni Flatpak di KDL Live diversi crash e mancanze, per cui devo confessare che l'unico formato che non mi ha mai dato, anzi avevo la cartella Linux, l'unico formato che non mi ha mai creato alcun problema è per l'appunto è quello AppImage. Ho un lanciatore desktop per cui comunque ho creato un lanciatore desktop per cui riesco ad avere KDL Live in formato AppImage sia integrato nel menu programmi che fissato qui al pannello. Audio video, lettore multimediale, MKV Tool Nix GUI, mi serve di solito a fare multiplexing di audio video, spesso scarico film stranieri, poi quando esce la lingua italiana aggiungo l'audio, quindi serve a manipolare tracce audio video e sottotitoli nei file Matroska. E poi questo file mp3 split gtk audio splitter mi serve per quando intendo fare uno split di un file FLAC da un file Q, una cosa piuttosto tecnica, però spesso si scaricano degli album che consistono in un unico file per l'intero album e sono accompagnati da un file di testo che avviandolo nel lettore multimediale ritrovi la separazione delle tracce e poi far partire una canzone. Questo programma serve proprio a separare dall'unico file i singoli brani in file differenti. OBS Studio, non adopero mai Rhythm Box e il Sound Converter perché è veramente la cosa assolutamente più semplice e rapida per convertire qualunque tipo di formato di file. proseguiamo l'esplorazione, giochi in questo momento si ho assetto corsa, bim and g drive e steam e basta. Io sono stato, non sono un grande gamer, ho sempre però apprezzato moltissimo le simulazioni di corsa, adesso mi trovo in campagna, non potrei mostrare la mia postazione seduta con cambio volante pedaliera logitech, però ovviamente con i programmi ne ho ben più di questi di programmi. Intanto apro steam è composta per lo anzi quasi anzi esclusivamente di software di simulazione di corsa. Io riesco a giocare benissimo questi titoli windows assolutamente per con steam in linux con l'unica cautela di aggiungere in formato flat pack per l'appunto proton app cutie che installa le ultime versioni delle librerie proton, in questo caso la 9.5, si installa proton app cutie, si fa aggiungi versione, si sceglie quale tipo di script, io ricorro sempre a ga proton e installo spesso l'ultima versione, blocchiamo tutto. Una volta che ha installato proton app cutie vai in un gioco che infatti mi viene detto disponibile per windows e non me lo fa installare, assetto corsa competizione che in questo momento non ho installato, vai sulle proprietà del gioco, compatibilità, forza l'utilizzo di uno strumento per steam play e di qui io applico la versione di proton ge che ho installato con proton app cutie. Installa a questo punto come così come con assetto corsa il gioco è immediatamente avviabile. Grafica. Nulla. Gimp. Anche per ciò che riguarda Inkscape lo adopero poco, anche quello lo adopero in formato app image però io di solito cioè la gran parte delle cose la faccio con LibreOffice Draw ad esempio. Sulle immutabili io avevo una animazione che avevo creato con LibreOffice Draw e che avevo avevo registrato il desktop e via via che facevo il click quindi le singole animazioni le avevo create con le mie clip art quindi spiegavo i meccanismi di aggiornamento e di sostituzione dell'immagine docker podman eccetera eccetera il grosso del disegno vettoriale lo faccio con LibreOffice Draw e Inkscape lo adopero pochissimo internet abbiamo l'immancabile amul in cui ancora ad oggi si trova di tutto il browser brave deluge per i torrent filezilla per la gestione di siti ftp poi aggiungo anche LibreWolf ovviamente ho steam ancora abbiamo ex chat ma da mint 22 ex chat non ci sarà più ci sarà un client apposito che si appoggerà al matrix che dovrebbero chiamare jargon credo ancora non ho verificato la beta di mint 22 perché ci sono seri problemi altre volte l'ho installata ma siccome ho saputo che ci sono seri problemi questa volta attenderò il rilascio definitivo anche per provarla e la mia recensione arriverà come sempre ultima ma io non intendo fare la corsa a fare prima lo voglio provare per ciò che riguarda la programmazione mi sono rivolto definitivamente dopo l'affossamento di atom da parte di github dopo l'acquisto di github da parte di microsoft con 7 miliardi di dollari e mezzo hanno affossato un ottimo atom un ottimo editor di codice che si chiamava atom per vs code io adoperò la versione ripulita di tutte le telemetrie e quindi tutte le informazioni e di tutte le personalizzazioni della versione protetta da copyright di quella di microsoft in questo momento ho solo la versione di libreoffice un pochino datata dei repository alcune volte mi è servito specialmente per interagire con quelli di libre italia che hanno l'ultima versione ho usato il formato flat pack peccato che di libreoffice non esista più un app image dalla versione 7.2 mi sembra che sia fermo ovviamente non può mancare per me pdf arranger perché è un programma che davvero permette di riadattare ruotare unire separare pdf non richiede nemmeno java è leggerissimo e pienissimo di caratteristiche poi quali altri programmi abbiamo sigil per la creazione di book e poi sono basati comunque su html tutti i miei ebook sono comunque realizzati con sigil come m'organizzo poi all'interno della mia home io ho una cartella con le macchine virtuali virtual box che adopero le più recenti devo dire che io tengo traccia di tutte le macchine virtuali nel disco ntfs esterno ho provato ad aggiungere le macchine virtuali da lì ne ho veramente non so quante però le prestazioni sono molto scadenti per cui e non mi va di riempire ogni volta la partizione e non mi va di salvare io non crea una partizione home potrei creare una partizione ex 4 con solo le macchine virtuali da mantenere di volta in volta ma raramente poi mi servono tutte poi spesso le elimino per cui all'interno della mia cartella home o non lo posso dire se no mi cacciano da youtube il collegamento con key drive che si integra con la sua specifica app in app image e niente salvo pochissimo questo è il file che stiamo creando dell'attuale sessione video per quanto riguarda invece il backup o meglio i punti di ripristino confesso confesso di non avere impostato time shift lo faccio perché come ho detto per me un eventuale problema al sistema mi richiede il massimo di un quarto d'ora per ritornare operativo però non è una buona abitudine quindi io consiglio comunque a chiunque non appena finita l'installazione e magari anche gli aggiornamenti o le installazioni di programmi supplementari che si aggiungano un'installazione di linux in qualunque edizione distribuzione è quello di pianificare gli snapshot con time shift è una cosa assolutamente da fare molto comoda perché anche in caso di problemi come ci sono stati alcuni recenti ad esempio con le schede amd con grafica integrata al di là del fatto che all'accensione del computer anche se hai un solo sistema operativo e nascondi il menu di grab mantenendo premuto il maiuscolo oppure il tasto esc puoi accedere le opzioni avanzate e caricare un kernel differente in ogni caso se il computer non si avvia ma all'interno del computer c'è un uno snapshot recente di time shift con una chiavetta di installazione linux mint avvi time shift e time shift è in grado di trovare all'interno del disco di sistema il lo snapshot e di ripristinarlo per consentire comunque di riavviarlo all'ultimo snapshot salvato quindi è una cosa assolutamente doverosa da fare poi che altro dire le personalizzazioni come procedo alla personalizzazione allora per lo più devo dire la verità io adoro i temi scuri di cinnamon perché sono neutri e non sono neppure troppo scuri mentre ad esempio quelli di zorino s hanno comunque una nota di colore che si allinea col tema io trovo che questo formato sia questo tema non troppo scuro sia la cosa più rilassante che posso avere per passare tante ore al computer per cui applico sempre il tema scuro come prima cosa per ciò che riguarda le altre personalizzazioni in questo momento io ho sostituito il menu predefinito di cinnamon con cinnamenu che trovo molto utile nella modalità griglia qui perché anche addirittura un motore di ricerca di emoji ha la possibilità di effettuare ricerche nel web non ricordo le scorciatoie di sistema per le ricerche web mi mette i preferiti nel pannello in basso o meglio sono io che li ho impostati in basso e non a sinistra come menu principale quindi mi mostra i preferiti che ho tre cartelle software linux e documenti mi trovo molto bene con cinnamenu poi a livello di personalizzazione qui si vede che è trasparente ho semplicemente l'estensione transparent panel attiva pannelli trasparenti che appunto quando una finestra non è a tutto schermo rende i pannelli in questo caso solo il paio un solo pannello quello di default impostato in basso lo rende trasparente e poi l'altra cosa che ho fatto è in modalità modifica pannello con un clic destro sul pannello è di aver spostato il menu di cinnamenu e l'elenco la applet elenco finestre raggruppate che normalmente si trovano qui le ho semplicemente spostate nella zona centrale non c'è nessun'altra personalizzazione per ciò che riguarda questo disattivo la modalità modifica pannello e sono a posto per ciò che riguarda i temi di cone sono preimpostati questi temi perché si tratta delle icone numix circle è l'unica cosa differente tutti hanno questi temi in mint io ho applicato l'icone numix circle ripeto la personalizzazione per me è molto dinamica per l'appunto prediligo per lo più desktop scuri sfondi desktop scuri che cambio così a gradimento perché mi creano distrazioni un altro degli sfondi che preferisco è questo che mi ricordo di spegnerlo ogni volta che non sono costretto a starci davanti e altre personalizzazioni sì ho mostrato che per la spunto talvolta per il desktop ho il piacere ad attivare l'estensione di dynamic wallpaper lo aggiungo di nuovo lo trovo molto carino perché comunque ha una serie di temi preimpostati che variano a seconda dell'ora del giorno ce ne sono un sacco si possono anche personalizzare con cartelle specifiche e personalizzare gli orari crearne anche insomma a piacere con proprie immagini lo trovo molto valido come programma talvolta appunto ho piacere come in questo caso di impostare questo desktop lakeside e avere comunque una visualizzazione che cambia a seconda delle ore del giorno altre estensioni io non ne adopero ci sarebbero anche quelle ad esempio per avere le finestre in stile compiz vediamo quanto ci mette ad installarle eccole però io non gradisco questo genere di distrazioni devo dire la verità anche se è molto fluido ad opero davvero solo pannelli trasparenti ma neanche sempre e per l'appunto neanche sempre il dynamic wallpaper cambia sfondo scrivania rimetto uno dei miei desktop scuri che non mi creano distrazioni qualunque cosa io faccia poi per ciò che riguarda altre personalizzazioni tengo semplicemente cobi analog clock e la prima cosa che faccio è modificare i caratteri dall'impostazione seleziona carattere in questo momento impostato aria perché a me ubuntu è veramente venuto a noia come font però tengo sempre caratteri sans molto molto leggibili adesso credo sia davvero tutto per questa esplorazione insieme a me formale della mia installazione di linux mint nel mio computer fisso e ti auguro una buona estate e ci vediamo molto presto grazie per avermi seguito finora e alla prossima grazie per avermi seguito